Il luogo da dove presentiamo la trasmissione di Comuni Informano di oggi è un luogo speciale, il luogo, l'abbiamo definito, un piccolo, il luogo delle memorie nella nostra comunità. È la sede dell'Associazione Bagnere, che conserva, grazie anche ai sacrifici, diciamolo, inenarrabili di Angelo Restiva, alla sua passione smodata, sta conservando questo piccolo patrimonio di memoria, che sono cartoline, che sono vecchi oggetti, che sono vecchi modi di vivere, vecchi documenti, tutto quanto riguarda la storia vera, attraverso i documenti, non la storia raccontata o ripresa sui libri, attraverso, ripeto, i documenti della nostra comunità, da almeno 100 anni e forse anche più a questa parte. Perché questa location? Usiamo un termine di moda. Perché noi vogliamo dedicare, a partire dalle prossime trasmissioni, 5-10 minuti a fare una sorta di tuffo nel passato, a riandare ai tempi che non ci sono più. Parliamo di 70, 80, 90, 100 anni fa, di quelli che erano le condizioni di vita, le condizioni di lavoro, lo sbago, gli sbaghi che c'erano a quei tempi, e non per fare una, come dire, un'operazione di banale, vuota nostalgia o di rimpianti del tempo che fu, perché su questo abbiamo le nostre idee. Non crediamo che tornare indietro, come purtroppo spesso facciamo, in cui mitizziamo i tempi andati, diciamo, ah, com'era bello una volta, ah, quant'era bagheria di una volta, bagheria di una volta, scusateci l'espressione, sono tutte sciocchezze. C'è stato un grande progresso, la città è cambiata. Chi dice queste cose non sa, o non ha vissuto, o ha semplicemente, come dire, conservato nella memoria gli aspetti migliori. La città di una volta non era migliore di quella di oggi, i problemi economici erano più grossi, il livello di evoluzione, il livello di civiltà era senz'altro più basso. E diciamolo pure, anche i livelli di vice, come dire, erano più seri i problemi legati alla sopravvivenza, alla salute, al lavoro, quindi quando facciamo queste operazioni dobbiamo stare attenti. È chiaro che c'era un'altra atmosfera, c'era un altro clima, c'era proprio un atteggiamento diverso nei confronti del futuro. Questo è vero. La bagheria, i bagheresi di 50, 60, 70 anni fa erano gente che guardava il futuro con ottimismo. E questo ce lo può, come dire, confermare Angelo Restivo perché guardava... La bagheria era una città che produceva, una ricca città industriale. Se pensiamo che c'erano 18 industrie di conserva alimentare a bagheria, è quanto dire. Ma c'erano industrie di conserva alimentare, c'era una centrale di energia elettrica, c'era una grossa azienda di produzione di mobili, ci sono state conserva alimentare in Corso Butere, ci sono ancora... Addirittura la bagheria, prima del Novecento, aveva tre banche proprio bagheresi. C'erano tre banche territoriali, cioè era una comunità molto intraprendente, straordinariamente intraprendente, e motivata, che stava costruendo il proprio futuro, la propria ricchezza. Poi arrivano i 50, i verdelli che rappresentarono... Il nostro benessere economico, solo che bagheria non ha avuto un'evoluzione intellettuale con il progresso industriale, cioè è rimasto la gente ignorante, è l'incendente più pericoloso dell'ignorante ricco. Ecco, qualcuno dice bagheria è una città di grandi intellettuali e di molti ignoranti. Probabilmente è una cattiveria, la diciamo di fatti per partito presso, però è chiaro, c'è una cosa che va detta. Non possono essere dei fenomeni isolati, quello di Giuseppe Cirincione, quello di Guttuso, di Buttitta, di Bagnera, siamo proprio nella sede dell'Associazione Bagnera, di D'Alessandro, di Scianna, di Tornatore, non sono dei fenomeni che sono nati occasionalmente, come non è occasionale e casuale la presenza di tanti artigiani, artisti nel nostro territorio. Sono scultori, sono pittori, sono fotografi, sono inventori, gente che della manualità ha fatto talvolta la propria ragione di vita. Cercheremo di capire come nasce questa voglia di intrapresa e di arte nella comunità di bagheria, perché ci sono delle motivazioni ben precise, ne accenneremo naturalmente, rapidamente, che si possono essere individuate, naturalmente, come è giusto che sia in un grande fatto di stravolgimento economico. Ci riferiamo alla, come dire, parcellizzazione del feudo dell'Accia, quando un migliaio di bagherese oltre ebbero assegnate la loro, quello che in dialetto chiamiamo la fedda all'Accia, e da lì il paese cominciò a cambiare molto, parliamo degli ultimi decenni dell'Ottocento, e si creò quella media borghesia agraria, che, diciamo, diede vita poi a tutti i fenomeni culturali importanti. Ecco, noi vorremmo parlare di questo, ne parleremo con, non solo con Angelo Restivo, ne parleremo anche con altri amici, di volte in volte porteremo qua. Ripeto... L'Accia, l'associazione, qualche mese fa, ha acquisito circa 200 atti che il Conte d'Angelo dava in affitto, proprio in Conte d'Accia, ed è importante perché molte non pagavano, e quindi il Conte ignorava le case. Quindi sappiamo dove sono le prime case ubicate a bagheria, tramite questi atti, che ancora sono in fase di studio, perché aspettiamo degli esperti. Ecco, su questo faremo degli accenni, però poi concretamente entreremo nel vivo della vita quotidiana. Poi vedete qua, accanto a noi, ci sono oggetti d'uso nella campagna, ci sono oggetti che si usavano nella vita comune, quotidiana, come si cucinava, come si lavava, come si stirava, come si lavorava in campagna, come si viveva nella città, come si risolveva il problema dei rifiuti di allora, perché in pratica non se ne producevano. Ecco, negli anni 50 la produzione dei rifiuti era praticamente irrilevante, perché si riciclava tutto, con gli animali che venivano allevati, galline, piccoli. Si vendeva pure, perché c'era una lettrina davanti alla porta, e mi ricordo che si vendevano proprio, venivano le carrette a carregarle con le cascette. Lui ricorda un periodo in cui noi a Bagheria abbiamo conosciuto le fogne comunali, le pubbliche fognature a Bagheria sono nate dopo la guerra, cioè sino dopo gli anni 50. La grande opera di urbanizzazione fognare a Bagheria è dagli anni 50. A Bagheria, sino al 1911, non c'era illuminazione elettrica. L'illuminazione elettrica esterna della città nasce dopo il 1911, che è un anno importante, ricordiamolo perché si apre corso a Baudastre Rescatuto, eccetera. Poi verrà l'acqua, tant'è che è rimasta, come dire, comuna l'espressione che mettere se l'acqua rincia. È un'espressione che abbiamo, che era da un canto, come dire, è un modo di dire, da noi per dire che uno si mette un carico, perché cosa avveniva? Spieghiamolo, perché chi non aveva l'acqua... Si andava a riempire la fontanella che c'era, quasi ogni 3-4 state c'era una fontanella. Ci erano centinaia, decine di fontanelle pubbliche. Perché la gente con i secchi, con il bottiglione, si andava a riempire l'acqua ed era tutto pure... Era un momento di socialità, cioè erano le donne che andavano a fare questo lavoro, alla fontana, era un momento in cui di chiacchiericcio, e tra volte erano momenti di litigia anche abbastanza ad alta voce, e così metteva l'acqua. Chi aveva la possibilità di avere l'acqua in casa, veniva disturbato, diciamolo, da chi non la beva, magari la sera, di notte, sentevi se beva un po' d'acqua, quindi le persone mettere sull'acquarincia corrispondeva a dire doversi fare carico di tanti problemi degli altri. Ecco, questa è un po' l'intenzione che abbiamo. Ripeto, la realizzeremo in questa sede, naturalmente utilizzando anche immagini in qualche caso dell'epoca, siamo riusciti a recuperare un materiale in 8 mm che risale ai primi anni 50, quindi naturalmente è un materiale a cui qualità è veramente discutibile, scadente, però in ogni caso è sempre importante per capire, ripeto, le condizioni di vita, di lavoro, e di esistenza di quel periodo. Con Angelo Restivo, dicevo, ma anche con altri, con altri ospiti che in parte hanno vissuto quell'epoca, in parte sono esperti, conoscitori, appassionati di queste cose. Dalle prossime settimane, ripeto, dedicheremo uno spazio alla bagheria di un tempo. Gli altri argomenti di questa settimana sono sostanzialmente due. Un ricordo, parlavamo proprio po' Canze, di artisti, artigiani, lo era Mimmo Pintacuda, scomparso il 21 di dicembre dell'anno scorso. Grande fotografo, grande uomo, che ha lasciato veramente una traccia, una traccia soprattutto per essere stato, come dire, il personaggio ispiratore di Alfredo nel nuovo cinema Paradiso di Peppuccio Tornatore, che come sapete ha conquistato l'Oscar. Mimmo Pintacuda verrà ricordato, verrà ricordato al Super Cinema, verrà mandato in onda un documentario che realizzò qualche anno fa assieme al figlio Paolo, che è uno sceneggiatore, ci sarà Biagio Ciortino, ci sarà l'assessore del sindaco, l'assessore della cultura, ci sarà, diciamo, soprattutto perché inevitabilmente è il personaggio più noto, più prestigioso, ci sarà Peppuccio Tornatore, che al momento di funerale non poteva essere presente, ha rimandato a questa occasione un suo personale ricordo di Mimmo Pintacuda. L'evento si svolgerà sabato, la sera del sabato, poi naturalmente la settimana prossima ve ne daremo un ampio stralcio di interviste, di documentazione di questa manifestazione. Mimmo dopo un primo impatto, apparentemente così Mimmo scostante, diffidente, in realtà era una persona molto ricca. Della politica era diffidente. Della politica e anche del comune, però devo dire poi lui si è mostrato per quello che è realmente, una persona che nascondeva nelle sue rigidità delle fragilità umane, cioè una persona che era un bagherese profondamente legato al territorio e che aveva paura di esporsi, quindi questa sua rigidità era semplicemente una debolezza, una sensibilità molto accesa. E lo abbiamo visto poi in quella realizzazione del libro che abbiamo realizzato con la dottoressa Fafadella Locascio, 50 anni di fotografie, cioè 50 anni di storia dei bagheresi. Oggi credo che sia giusto ricordare Mimmo Pintacuda perché è uno dei figli così estrosi, geniali, di questa bellissima città, di questa bagheria operosa. Mimmo non è un fotografo. Mimmo è stato un sociologo, è stato un attento osservatore dell'antropologia culturale, dei cambiamenti culturali che questo territorio ha vissuto. Mimmo ha fotografato muri scrostati, sedie con le mercanzie agricole. Cioè lui ha fotografato volti, visi, il dolore, il sudore, l'amarezza, i sogni. Ecco, come dimenticare facilmente quando negli anni 50 si partiva con la voleggia di cartone per andare negli Stati Uniti? Ebbene lui è andato lì, ha voluto vedere le facce dei bagheresi, di uomini, di donne, di seconda generazione, che hanno culato il sogno americano per esempio. Quindi questi 50 anni di fotografie che abbiamo dovuto regalare, dovuto, non voluto, ma dovuto regalare alla città per far sì che non si dimenticasse che i bagheresi sono un popolo di artisti, i bagheresi sono un popolo che amano le relazioni, che osservano. Ebbene Mimmo è stato un catturatore di immagini, cioè è stato colui che dal punto di vista sociologico, come fotoreporter, è riuscito a tracciare un'evoluzione culturale di un'intera popolazione, che poi non è soltanto quella bagheresi. Ma lo ha fatto benissimo Peppuccio Tornatore nel film Baria. Io prima di andare avanti con Peppuccio ti volevo fare una domanda. Tu hai avuto la fortuna di essere stato sindaco in un periodo in cui si svolsero grandi eventi culturali da bagheria, ricordo la mostra di fotografie di Ferdinando Scianna, quelle di bagheria con l'annesso catalogo, ci furono grandi mostre antologiche di Guttoso, ci fu la realizzazione del film Baaria di Peppuccio Tornatore, la prima che si sposta a bagheria. È stato stampato questo volume di Mimmo Pintacuda che vide anche la presenza di Tornatore a bagheria. Ecco, quel periodo, come lo ricordi? È stato il periodo più bello, più arricchente della mia esperienza politica, amministrativa, ma anche personale come bagherese. Io in quel momento ho scoperto tantissimo, ho scoperto dalla nostra storia dei carretti, dei canti dialettali dei carrettieri. Mi sono scordato il riferimento anche alle cose dei Ducati. Dici benissimo, perché io posso elencarti di più di 70 pubblicazioni che abbiamo realizzato, abbiamo ridato una dignità storica a questo territorio, abbiamo ridato un momento importante per sentire di nuovo il senso di appartenenza. Ebbene, Angelo, io devo dirti che in quel momento ho riscoperto, assieme a tutti i bagheresi, il senso di appartenenza a questa comunità che ci stava sfuggendo di mano. Tu dicevi poco fa, anche parlando di un altro grande come Ferdinando Scianna, che lo colloca come un fotografo più su etno-antropologo. Ecco, lui cercava le tradizioni, scavava dentro le tradizioni non soltanto bagheresi, li commetteva a confronto, li mette a confronto. Ebbene, questo senso di appartenenza, Angelo, in quegli anni è stato talmente forte che ci ha fatto rinnamorare della bagheria con tutte le sue contraddizioni. Perché non dimentichiamo che bagheria, tra la fine dell'Ottocento e metà del Novecento, è stata ricca di contraddizioni, ma anche ricca di elementi culturali straordinari. E anche economici, diciamo. Assolutamente. Allora, Paolo Pintaguta, per concludere, il valore di questa giornata, di questo ricordo, che non è sola formale, di Mimmo? Ma io, nel momento in cui ho pensato di creare questo evento, ho voluto che intanto gli amici fossero presenti, ho pensato a Biagio, ho pensato a Doro, ho pensato a Peppuccio, a tanti altri. Ho voluto ricordare papà da vivo. Ecco, per fortuna la grande bellezza di chi fa arte è che l'arte permette all'artista di sopravvivere alla scomparsa. Se io voglio ancora oggi, a distanza di due mesi, vedere mio padre, riesco a farlo guardando le sue immagini, riesco a vedere attraverso le sue fotografie il suo sguardo, la sua ironia, il suo sdegno, quelle tante foto che hanno raccontato il sacco edilizio del nostro paese. Ecco, per fortuna, diciamo, la sua arte è quel ponte che permette ancora a me e a mio padre di avere un dialogo diverso. Naturalmente lo consente anche a chi non solo lo ha apprezzato e stimato, ma a chi ha l'orgoglio di essere bagherese. L'agroalimentare bagherese del territorio può essere il punto di ripartenza dell'economia. Abbiamo tante eccellenze, abbiamo conquistato veramente sul campo tutta una serie di riconoscimenti. Il territorio sta diventando ricco di questa realtà. Partiamo dall'azienda del Salato di Aspa. Nei mesi scorsi l'emiro del Catare è venuto a visitare un'azienda di bagheria La Flotte. Nelle settimane scorse un'altra azienda, quella di Balestrera, ha ottenuto il riconoscimento a Best in Sicili che viene patrocinato dalla rivista online Cronache di Gusto. L'altro ieri, appena l'altro ieri, un'altra azienda bagherese, l'Ecofruit, conquista dei riconoscimenti di valore mondiale. Due oli vengono piazzate tra la top ten, tra i migliori oli del mondo. Questo è accaduto alla Biofacci, che è la fiera a base di prodotti biologici freschi e conservati più importante del mondo. E questi oli hanno avuto questo riconoscimento. Ma nel territorio c'è anche la Vinicorvo, c'è il pastificio Tomasello. Cioè, veramente, si comincia a parlare di grano, di tumminia. Ci sono veramente delle realtà dell'agroalimentare che possono avere non solo nicchie di mercato. Perché dal ragionamento che abbiamo fatto con il responsabile dell'Ecofruit, che è Rosario Provino, che appunto intervisteremo, abbiamo intervistato, viene fuori che se fai le cose che fanno tutti gli altri, allo stesso modo degli altri, non puoi stare sul mercato. Perché ormai, in paese emergenti, le cose costano un terzo, la mano d'opera e tutte le altre cose costano un terzo che da noi. Allora devi specializzarti. Devi dare dei contenuti di innovazione, di tecnologia, di qualità, ecco, al prodotto che vuoi portare sul mercato. E allora le affermazioni arrivan. L'agroalimentare bagherese sugli scudi. Una bellissima e anche, come dire, straordinaria affermazione di prodotti che vengono manipolati e confezionati da un'azienda di bagheria, l'Ecofruit. Siamo con l'amministratore delegato Rosario Provino, che ottiene un riconoscimento mondiale al Biofac di Nuremberg. Allora, spiegaci brevemente di cosa si tratta. Il Biofac di Nuremberg è la manifestazione più importante al mondo per i prodotti biologici, per i prodotti alimentari e biologici. E' il settore in cui opera la vostra azienda? E' il nostro core business, diciamo, è il settore principale sul quale lavoriamo. Noi da qualche anno abbiamo cominciato a fare, oltre al nostro lavoro tradizionale di ortofrutta, agrumi e verdure di tutti i tipi, anche una discreta produzione di olio e shepergini di oliva. L'anno scorso c'eravamo già classificati. Gli impianti però non sono a bagheria, diciamo. Gli impianti dove sono? Gli impianti delle aziende agricole sono nel Trapanese e anche in provincia di Palermo, comunque. Nella zona di Camporreale. Sono diverse aziende. Da queste aziende, l'anno scorso, eravamo riusciti già a piazzarci con un solo olio, comunque già i primi venti. Quest'anno, anche grazie a una molitura più attenta, più moderna... Ecco, cioè vi siete rivolti ad un frantoio che lavora in maniera più specialistica e più legata, come dire, alla qualità. Ci sono riusciti a un frantoio, ovviamente certificato biologico, ma che ha un impianto veramente all'avanguardia, perché la differenza la fa anche l'estrazione. Noi partiamo dalla materia prima sicuramente eccezionale. Vi ho presentato oggi il Monocultivar, abbiamo preso i premi. Più di questo, francamente, non potevamo sperare. Biancolilla, Nocellara e Cerasuolo. Senti, cosa significano questi? Intanto la giuria com'è formata? La giuria è formata da 12 sommelier di olio internazionale di tutti i paesi che partecipano, quindi Spagna, Grecia, Cipro, un po' tutta Europa. E assaggiano al buio, non sanno cosa stanno assaggiando, per sei giorni di seguito tutti gli oli presentati, che sono centinaia ovviamente, sono presenti in tutto il mondo, compilano le schede, danno un punteggio, poi la somma di questi punteggi alla fine ti dà la posizione in classifica. Viene premiato un olio, che è l'olio dell'anno, e poi si stivano la cosiddetta top 10, i primi 10 e la top 20, diciamo. Voi avete piazzato due oli nella top 10, un altro nella top 20. Cosa significa per voi questo riconoscimento? A di là di, intanto, un fatto puramente commerciale. Non è un fatto solamente commerciale, ma veramente commerciale. Anche commerciale. Dal punto di vista commerciale, avere questo tipo di attestazione, terza, chiaramente, aiuta molto anche nella commercializzazione. Ma significa che quando lavori bene, quando ti sforzi, quando ti impegni, quando fai le cose nel miglior modo possibile e con grande professionalità, alla fine i risultati vengono pure. In questo caso per l'olio, ma scambiando settore non cambia il risultato, secondo me. E la soddisfazione di avere ben lavorato e che i sacrifici vengono ripagati. In questa fiera ci sono molti operatori commerciali, un grandissimo numero di operatori commerciali. Voi avete una grossa fetta della produzione che va all'estero. Ecco, in questa fiera avete realizzato altri contatti? Pensate di espandervi ancora di più all'estero? Sicuramente sì, si va alla fiera, avevamo un nostro stand di circa 30 metri guerrati, questa volta un po' più grande delle volte precedenti. Ogni volta cerchiamo di... Stand ecofruiti, diciamo. Uno stand nostro, sì, assolutamente. La fiera serve proprio a quello, a riconsolidare i contatti vecchi, a rivedere tutti i clienti con cui già lavori, ma a cercare anche contatti nuovi. specialmente nei paesi emergenti, non rappresentano molti paesi dell'estero europeo, Bulgaria, Romania, Ungheria, ma anche quella che è un po' la frontiera del futuro nostro, a breve credo che la Russia e la Cina sono i paesi, insomma, sicuramente. Avete allasciato rapporti che naturalmente produrranno nel futuro? Abbiamo cominciato a creare qualche rapporto che a breve credo che concretizzeremo anche materialmente in fornitura di prodotto. Senti, tu conosci bene il settore agroalimentare, e a Bagheria, tra le aziende di Salato dell'Aspra, tra il pastificio Tomasello, la Vinicorbo, la vostra presenza, può rappresentare un trampolino di rilancio dell'economia del territorio? Io credo che l'economia del territorio è fatta fondamentalmente da gente che si lamenta che c'è crisi, che tutto va male, che non c'è il lavoro e via discorrendo. Però, come tu citavi, alcune aziende comunque lavorano sul territorio. Questo territorio non è che ha molto da spendere. Credo che l'agroalimentare sia, come dici, la via obbligata. Agroalimentare, noi, significa fare prodotti di eccellenza, perché se facciamo prodotti che fanno in tutto il resto del mondo, andiamo in concorrenza solo sul prezzo, sul prezzo siamo perdenti. Ma siccome noi qui riusciamo a produrre prodotti eccezionali, adesso è il caso dell'olio nostro, ma possiamo passarlo su tanti altri prodotti, del settore ortofruttico, sul vino, ma anche sull'ortofrutta stessa. Noi riusciamo a fare ortofrutta di grandissima qualità. Allora, forse ci dovremmo un po' lamentare meno e cominciare a fare qualcosa di più. Rimboccarci le maniche, fare qualcosa, non tutto quello che fai, non tutti i progetti che fai riescono, non tutte le cose vanno in porto, perché adesso noi stiamo oggi qui a complimentarci di un bel risultato, è una cosa che c'è da grande soddisfazione, ma noi facciamo tante cose, alcune rimano al caguardo massimo, altre possibilmente si arenano, ma se non fai nulla sicuramente non ottieni risultati. Cioè vale quello che vale per l'azienda Italia in questo momento per voi, cioè non si può competere dal punto di vista del costo del lavoro, al costo dei servizi con alcuni paesi emergenti, parliamo dei paesi dell'oste europeo, parliamo del sud-est asiatico, per certe produzioni dei paesi del Maghreb, però se c'è nel prodotto innovazione, sviluppo, specializzazione, qualità, i risultati arrivano. Sicuramente sì, almeno questa è la nostra esperienza, ma non solo la nostra, devo dire, perché poi in un panorama come quello che vedi in una fiera di questo genere dove è presente veramente tutto il mondo, ti accorgi che dall'Italia tantissimo e che l'Italia è presente in maniera massiccia. Abbiamo già un brand importante, un no e un no. Sicuramente, ma anche negli altri paesi, chi va avanti e chi fa grande qualità, non c'è niente da fare. Cioè i paesi del Maghreb, il prezzo chiaramente saranno sempre più bassi rispetto a noi. Però quello che riusciamo a fare noi fino ad oggi, veramente, sia come zona per caratteristiche climatiche, per prodotti, per recupero di antiche varietà che molti stanno facendo anche questo lavoro. Con il grano, per esempio, si fa? Con il grano, anche con il grano che tu ti ritrovi in posti impensati, il ritrovi che viene dal molino siciliano che ha recuperato alcuni, il persia sacchi, il tummenia, cioè dei grani ormai quasi scomparsi e che stanno conquistando l'altissima ristorazione o alcune particolari nicchie di mercato. Ti accorgi che c'è un movimento, a volte non si nota neanche tanto, che non viene neanche pubblicizzato, ma che esiste e che va avanti e che è successo. Grazie per averci seguito, come sempre, l'appuntamento è per la prossima settimana. Vi ricordiamo che i comuni informano, va in onda su Tele1, canale 19, il sabato alle 12.30 e in replica alla stessa ora, la domenica successiva. Grazie.